Ciao a tutti, Alessandro Vigo qui. Oggi facciamo assieme l'analisi di una fase lanciata utilizzando una ripresa aerea effettuata con un drone, ma nulla ci vieta di utilizzare una ripresa a camera fissa effettuata con il nostro smartphone, semplicemente in senso parallelo al senso di corso del nostro atleta. Come software utilizzeremo Tracker, un software presente sia per Windows che per Macintosh totalmente gratuito che ci fornirà dati e numeri davvero fondamentali per scoprire qualcosa in più riguardo appunto il lanciato dei nostri atleti. Se il tema video analisi fosse di vostro interesse vi prego di commentarlo qui sotto perché stiamo valutando l'inserimento di questo tipo di tematiche nelle conferenze in programmazione per la stagione 2020-2021 con i ragazzi del coach. Quindi se fosse di interesse semplicemente commentatelo qua sotto. Adesso mettiamoci a lavoro e andiamo a vedere assieme che cosa c'è da fare. Eccoci qua, facciamo partire questo splendido video, andiamo indietro nel tempo, ok, facciamolo partire. In questo video la testa dell'atleta è l'elemento che Tracker sta seguendo. Qui vediamo uno splendido grafico dove vediamo la velocità metro al secondo che si muove e vediamo come la velocità sale e scende, sale e scende, sale e scende dando il primo punto saldo per cui stiamo registrando questo video. Ovvero ogni volta che tocchiamo terra stiamo rallentando. Infatti andremo a vedere dopo nel file Excel dove esporteremo tutti questi splendidi dati che a ogni contatto a terra corrisponde una forte decelerazione. Il momento in cui siamo in aria la velocità sale ampiamente. Quindi questo a sostenere diciamo la mia ma di molti altri allenatori il mio punto di vista dove nel rapporto tra frequenza e ampiezza vince quasi sempre l'ampiezza. Detto questo abbiamo analizzato il video in conferenza assieme andremo poi a vedere come andare a mappare i punti di interesse, creare le coordinate spaziali che sono i fondamentali per avere i dati più accurati possibile. Detto questo si fa una semplice copia dei dati di questa tabella in cui abbiamo tempo espresso in secondi, spostamento orizzontale in metri, spostamento verticale in metri, velocità in metro al secondo e il numero di frame che è fondamentale per avere un attimino di collegamento e referenza tra quello che vediamo graficamente nel video e quello che andiamo a vedere nella tabella Excel. Questa tabella, qui vedete esattamente i dati dalla colonna J alla colonna M, i dati che abbiamo visto su tracker, c'è stato un lavoro abbastanza lungo di monitoraggio dove andavo a vedere sostanzialmente per ogni gate, per ogni passo la fase di mid stance e mid flight. Perché mid stance e mid flight? Perché sono le due che in vista aerea sono meglio rintracciabili. Con l'atleta che è rappresentato nel video stiamo valutando alcune cose specifiche riguardo la falcata con la gamba destra e con la gamba sinistra, cose che verranno pienamente riportate in questo tutorial. Quindi andiamo a vedere il video, come dicevo abbiamo anche riferimento al frame, quindi frame 57, torniamo a tracker, andiamo a vedere un attimino 57, frame 57, richiediamo di andare a go to step 3, vediamo un attimino. Ok, ingrandiamo, ingrandiamo al 200%, andiamo a cercare l'atleta e vediamo come il piede d'appoggio sia esattamente sotto le anche, quindi in questa posizione siamo chiaramente in mid stance. Già che siamo qui avanziamo per vedere la parte in cui siamo in maggior divaricata, quindi al frame 60 dove siamo in mid flight e questa cosa si ripete per tutti i passi dell'esercitazione. L'esercitazione era un 20 metri lanciato con 30 metri di preavvio, ok? Questo è un dato importante, lo vedete evidenzato qui, 20 metri. La griglia gialla rappresenta quadrati da un metro quadrato in sostanza. Questo è importante per capire molto dei dati che andiamo a vedere di nuovo sul file Excel. Ok, quindi facendo questo lavoro di ricerca di mid stance e mid flight, sono andato a mettere in altre colonne, dalla colonna E alla colonna I, cosa succede? Nel piede sinistro, valori azzurri, e nel piede destro, valori arancioni. Cosa ho fatto? Andando nello specifico, ho evidenziato poi in giallo, lo vedete qui nella colonna C, tutto quello che succede all'interno del settore di 20 metri, che era il nostro punto di lavoro. Dato che non abbiamo un numero pari perfetto di passi all'interno del settore, ho creato all'interno del settore dei 20 metri una referenza, che è il settore grigio, che va dalla riga 37 fino alla riga 87, in cui ho selezionato 4 passi con appoggio sul piede sinistro e 4 passi con appoggio sul piede destro. Cosa succede a questo punto? Andando a fare una semplice sottrazione, andiamo a vedere come, sottraendo il principio e fine di quello che accade da mid stance alla mid stance successiva sull'altro piede, andiamo sostanzialmente a vedere il tempo che occupa un gate. Quindi vediamo che questo passo in tempo è durato 0,167 secondi, il seguente 0,200, in termine di metri facciamo la stessa cosa, andando a fare una sottrazione tra il punto di contatto della mid stance e il punto di contatto della mid stance antecedente, e abbiamo quanto c'è stato di spostamento orizzontale per quel passo. La stessa cosa, come vedete, si ripete sinistra-destra, 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 sinistra-destra. Qual è il dato per me fondamentale? Andare a assicurarmi che innanzitutto i 20 metri siano corsi alla velocità massima, essendo un 20 metri lanciato. Qua sulla destra, andiamo a inserirlo, tiriamo sul ribbon di Excel, qua alla destra vedete un grafico in cui vediamo meglio in dettaglio quello che avevamo già visto su Tracker, ovvero la velocità per i metri al secondo che si muove assieme alla corsa del nostro atleta. Come potete vedere, quando siamo in un mid stance, ci troviamo in una condizione di abbassamento della velocità, quando siamo in un mid flight, quasi sempre, ricordatevi che il frame è registrato, il video è registrato a 30 frame al secondo, servono molti più frame per avere una valutazione ancora più precisa. Detto questo, mi sembra che il grafico mi dia già informazioni molto importanti per capire che cosa stia succedendo. Quindi, vediamo che abbiamo un picco sopra gli 11,3 metri al secondo, abbiamo delle cadute che arrivano fino a poco più di 9,5 metri al secondo, per una media di velocità in settore di 10,3 metri al secondo, cosa che per il livello dell'atleta analizzato in questo momento è ottima, perché stiamo cercando di abbassarci, di aumentare la nostra velocità in metri al secondo e andare un pochettino sopra ai 10 metri al secondo. Adesso, in queste sessioni di allenamento lanciate abbiamo visto che già questo nuovo muro è stato abbattuto e abbastanza consolidato. Questo è quello che mi fa dire, assieme ai risultati in gara, che sono sempre quelli che determinano il successo o meno delle nostre decisioni prese in allenamento, che, diciamo, la linea è quella buona. Vediamo, da questo dato fondamentale di 10,3 metri al secondo, cosa succede in media sugli 8 passi, 4 a destra, 4 a sinistra, che abbiamo analizzato nella nostra gait analysis all'interno dei 20 metri. Vedo che la media dei passi effettuati con propulsione dal piede sinistro è nettamente più corta rispetto a quello che succede con i passi effettuati in propulsione con il piede destro. Questo dà un indicatore fondamentale, che è disparità di azione tra i due arti, che si vedono anche dall'alternanza dei picchi di velocità massima. Questa cosa si trasforma, la differenza di fase di volo e di durata del gait si rispecchia pienamente nella media metrica. Con il piede destro corriamo, in appoggio col piede destro, la falcata è di 1,98 metri e con il piede sinistro di 1,73 metri. Ci sono 24 centimetri di differenza, che è un abisso. Questo è un'informazione molto importante che il mio occhio aveva captato in allenamento, ma non è stato in grado di mettere nero su bianco sul programma di allenamento. Quindi quello che vedete qua è, diciamo, una trascrizione più precisa di quello che io in allenamento avevo intuito, ma ho bisogno fondamentale di avere dati nero su bianco e questa cosa, come ho detto prima, è costata praticamente zero. La ripresa si è stata effettata con un drone, ma la posso fare tranquillamente con il mio telefonino, come ho spiegato nell'introduzione del video. Quindi, vedete come, sì, c'è tempo dedicato a questo tipo di analisi, ma sono più certo di affrontare il nuovo programma d'allenamento con informazioni spendibili in più. Quale informazione trovo fuori da questi dati? Che, nell'esercitazione di wickets, con gli ostacolini, o gli over, come li chiamiamo in Italia, dovrò muovermi un pochettino con attenzione, perché il mio ragazzo sta già facendo wickets alla distanza di due metri e venti. Quindi vuol dire che la traduzione tra wickets e corsa lanciata pura non sta ancora avvenendo. Quindi, nel mio block notice, prendo una nota e vedrò cosa fare in pista. Cosa che sto pensando di fare? Aiutarmi con dei semplici cinesini, che non obbliguino a modificare lo stile di corsa come i wickets, per vedere, posizionandoli a una distanza che è quella che ho trovato quest'oggi, e vedere quale referenze effettivamente ci siano tra la realtà della pista e questa tabella che mi sono creato. Ok? Quindi, andando a mescolare la tecnica dei wickets, degli over, a quello che effettivamente è il risultato in gara e in corsa, andare a cercare la misura per fare effettivamente aumentare la falcata di questo atleta, che può già muoversi attraverso barriere a due metri e venti di distanza, ma che non traduce nel momento in cui deve correre libero. Oltre a questo, la disparità dei due arti mi dà grandi informazioni per la collaborazione con il terapista, con chi si occupa magari dell'aspetto posturale e, diciamo, della integrità della struttura dell'atleta. In questo momento io potrei tranquillamente parlare con il terapista dell'atleta, con l'osteopata, dato che conosco il problema strutturale che sta dietro, e dargli informazioni un pochettino più accurate che possano aiutare il lavoro, la collaborazione tra le diverse figure che ruotano intorno all'atleta, al fine di migliorare appunto i risultati in gara. Questa era l'analisi abbastanza rapida di una fase lanciata utilizzando ripresa aerea, ripresa frontale e tracker. Se avete domande, qualsiasi curiosità, mettetela nei commenti qua sotto. Se siete interessati al tema, fatemelo sapere, perché come ho detto nell'introduzione potrebbe essere uno dei nuovi temi per le conferenze della stagione 2020-2021. Ok? Quindi, spero sia stato di interesse, ci sentiamo presto, buoni allenamenti a tutti!